Dal 20 al 21 luglio, escursioni, incontri e degustazioni in un suggestivo percorso da Ovindoli al rifugio Telespazio fino alla cima Punta Trento e in ritorno. L'evento è organizzato da Marcello Borrone, coordinatore della Commissione Rifugi dell'Appennino del CAI, in collaborazione con Slow Food e l'alto patrocino della Regione, alla finalità di valorizzare la funzione del rifugio nell'Appennino quale spina dorsale di collegamento fisico, simbolico ed economico dell'Europa centrale. Per esaltare questi aspetti, la Commissione regionale Rifugi ha inteso organizzare un'articolata manifestazione che consenta di porre in essere diverse funzioni delle strutture in quota. Ospitalità, soccorso, didattica, promozione, ricerca scientifica e socializzazione. Intanto abbiamo la necessità di mettere a valore tutte le strutture, ne sono diverse, sull'Appennino, in particolare sull'Appennino abruzzese che denota il maggior numero di vette, le più alte vette dell'Appennino sono appunto in Abruzzo. Abbiamo un patrimonio diffuso che proviene anche dai primi interventi dell'Ottocento. Bene, questo programma, cioè il Rifugio del Mediterraneo, ha proprio questo obiettivo, cioè quello di mettere a valore tutti questi rifugi attraverso la funzione, il ruolo straordinario del Club Alpino Italiano, sia nella declinazione regionale, col CAI Abruzzo di Presidente Gaetano Falcone, sia nella declinazione centrale, nazionale, in cui abbiamo il rappresentante, appunto, il dottor, l'alpinista Eugenio Di Marzio. Quindi tutti questi enti di volta in volta e anche costantemente ci sostengono per portare avanti questo progetto. Rapidamente il programma di queste due giorni? Sabato ci si incontra alle 9 a Ovindoli sotto, ci si compatta, si sale, ci sarà questo seminario con gli architetti della provincia dell'Aquila, poi si partirà per questa escursione, punta Trento e Trieste, si ritornerà, si cena e si pernotta. Poi la domenica successiva, quindi appunto il 21, ci sarà di nuovo un altro gruppo che si unirà a noi, si arriverà sopra e ci sarà questa relazione di uno psicologo che ci dirà quali sono le nostre paura taviche e come il rifugio può in qualche maniera interpretarle e rassicurarle. E poi il pranzo del territorio curato appunto con Slow Food, Abruzzo e Molise.